Sono Bruno Batelli, RLS della Fit Cisle della Toscana. Ti volevo dire che oggi, 28 aprile, è la giornata mondiale della sicurezza in ambito lavorativo. Ma a te ricorda che la sicurezza sul tuo posto di lavoro deve essere ogni giorno. Sono Enrico Sostegni della Fit Cisle Toscana. Oggi, per la giornata mondiale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, Fit Cisle Toscana è presente. Mi raccomando, non abbassiamo la guardia. Sono Signore Gantonino della Fit Cisle Toscana. Uscire dal tunnel nell'agenza si può. Collaboriamo tutti insieme ogni giorno. Sono Emanuele Vaffelli, delegato della Fit Cisle Toscana. Oggi è il 24 aprile 2023. Giornata mondiale della sicurezza e la salute sul lavoro. E ricordatevi che la sicurezza sul lavoro non si contratta. Oggi è il 28 aprile del 2023. Dio mondiale della salute e la sicurezza. Ricordatevi sempre di contattare il nostro responsabile della sicurezza della Fit Cisle. Oggi, per la giornata mondiale della salute e la sicurezza sul lavoro, una cosa molto importante è di usare tutti i giorni per la vostra mansione la testa sulle spalle. È fondamentale per la vostra salute e sicurezza.